Ed eccoci qua carissimi amici, il Marvin Tour è approdato qua, guardate qua abbiamo fatto spostare uno Scania 93 ci avevano dato per pazzi qua, pensavano che scherzevamo, invece hanno capito che siamo degli appassionati di camion vintage guardate qua il Marvin Tour dove è approdato, guardate qua il signore, il titolare, mi sta spostando con molto orgoglio il suo Scania adesso vediamo qua un po' alla volta, se lo devo inseguire, guardate qua il Marvin Tour sta decollando eccolo qua Marvin, aspetta che corro, eh amico sono qua ecco, ed eccoci qua carissimi amici Scania 93 guardate qua, operazione Marvin Tour, guardate, iniziamo per scherzo ma è tutto vero è tutto vero, è la diretta qua del Marvin, guardate qua carissimi amici fantastico, fantastico, vero camion, guardate, è affascinato guardate qua il Marvin Tour è approdato qua, ha fatto spostare qua si sente il rumore, va bene lo stesso, dai guardate qua va bellissimo, Marvin Tour è approdato in queste zone pensavano che eravamo dei pazzi ma invece insomma siamo degli appassionati vintage guardate qua, carissimi amici, Scania 93, il signore con molto orgoglio ce l'ha fatto uscire, guardate qua, carissimi amici, Scania 93, bravo, adesso, adesso fai una manovra vai un po' indietro, dai che ce lo muovi ed eccoci qua, insomma, la diretta del Marvin continua, guardate qua c'è la ruota sotto il terzo, sì, sì, va bene, dai, va bene ed ecco, bravo guardate qua, Marvin Tour continua, Scania 93 il titolare di questa officina, insomma, con molto orgoglio bravissimo, grazie di tutto il report c'è ed ecco qua, il Marvin Tour termina qua il report dello Scania 93 ciao a tutti grazie amico